Siamo a Taranto, precisamente in Viale Pirro, zona Taranto 2, una zona tristemente abbandonata e stiamo raccogliendo le denunce dei cittadini. Il signor Nicola Calogero ci ha parlato in precedenza della viabilità, dei problemi di velocità elevata e oggi parliamo anche dei marciapiedi che causa le radici sono diventati impraticabili, le cadute sono all'ordine del giorno, se poi si considerano gli alberi che non vengono potati, la frittata è fatta. Certo, se le immagini possono documentare come si siano elevati così i marciapiedi, perché le radici cammienano. Io penso, tra l'altro qui parcheggiano le macchine, è una strada quando c'è un vento notevole. Io ho timore che prima o poi, un domani, si possa sollevare qualche albero e creare dei problemi. Io non so, l'ideale sarebbe qui di sradicare, ma non è possibile, ma almeno potare gli alberi, far vedere che l'amministrazione esiste per questa via. Mentre parlavamo le macchine, le auto sfrecciavano, ma questo abbiamo già affrontato in separata sede il problema. Più volte si sono verificate delle cadute, ultimamente due giorni fa c'è stata una caduta in Viale Piero all'incrocio con via Scoglio del Tonno, meno male che lì c'è una villa, il proprietario è intervenuto per soccorrere la persona, però è impraticabile. Lascio a voi le immagini circa la pulizia di questi marciapiedi. Erbaccia e quindi fonti di infezioni. Chiaramente, però queste cose sono state più volte poste all'attenzione personalmente da me, però non ho mai ottenuto risultati. Evidentemente la gente pensa più ai politici, pensano ai fatti loro. Però poi i politici in campagna elettorale si ripresentano. Specialmente in questo periodo stanno pensando ai problemi della città e dei cittadini e di questo mi duole. Oltretutto, considerando lo stato dei marciapiedi, come detto, le cadute sono inevitabili e poi è giusto che il cittadino che cade chieda i danni al Comune, ma mettiamoci nei pani di un anziano, di un nonno, di una nonna che va a prendere i propri nipotini da scuola, si rompe un femore e immaginate voi il dramma. E allora, signor Sindaco, Assessore ai lavori pubblici Lonuce, quando ci diamo una bella regolata?